Diverse sono le cure per i tumori alla prostata. Come è possibile scegliere la migliore per quella specifica persona? Come fa il chirurgo urologo? Il professor Giuseppe Simone, chirurgo urologo all'Istituto Tumori di Roma, Regina Elena. Lei come fa a scegliere la strada giusta? Quali sono le strade? Le strade sono diverse e abbiamo tante opzioni che vengono discusse quando necessarie in maniera multidisciplinare. Abbiamo la chirurgia, ma abbiamo anche la radioterapia, abbiamo le terapie focali, abbiamo la sorveglianza attiva. In funzione del rischio della malattia e dell'età del paziente bisogna scegliere la terapia che garantisce i migliori risultati con la minore invasività. Ma la sorveglianza attiva? Spieghiamola bene. La malattia a basso rischio, cioè quella che ha uno scarso o nullo potenziale metastatico che è definita come gruppo prognostico 1, può essere trattata con la sorveglianza attiva. Anzi, le linee guida raccomandano di utilizzare in prima battuta la sorveglianza attiva. Significa fare periodicamente il PSA e ripetere i controlli, compresa la biopsia e la risonanza, per verificare che la malattia rimanga localizzata.